La regina Camilla ha sfoggiato un look chic indossando un abito Dior, in seguito alle voci secondo cui Meghan Markle sarebbe diventata il volto del marchio. La regina Camilla era raggiante da un orecchio o l'altro mentre usciva con un abito grigio creato dalla lussuosa casa di moda Dior, il che potrebbe essere preso come un affronto alla duchessa del Sussex. La 77enne ha coraggiosamente continuato a svolgere i suoi doveri di rappresentante della famiglia reale, dopo aver recentemente fornito un aggiornamento sui suoi problemi di salute. L'anno scorso circolavano voci secondo cui Meghan Markle sarebbe diventata il volto di Dior. Si diceva che se avesse firmato il mega accordo, che molto probabilmente sarebbe stato un contratto di tre anni, avrebbe potuto guadagnare fino a 20 milioni di sterline. Meghan, 43 anni, che attualmente risiede negli Stati Uniti con il principe Ferri, ha indossato molti look Dior nel corso degli anni. Al funerale della regina nel 2022 ha indossato un completo sobrio realizzato da loro. L'anno seguente, durante l'incoronazione di re Carlo III, hanno vestito anche il principe Ferri, 40 anni, per la sfarzosa occasione. Da quando si è allontanato dalla monarchia e si è creato una vita oltreoceano, ha stretto delle partnership a pagamento con Netflix e Spotify. A giugno 2023, è stato riferito che Meghan era in trattative con Dior per un ingaggio redditizio. Ciò è avvenuto dopo la cancellazione del suo podcast sulla popolare piattaforma di streaming, dopo solo una stagione.